Il presidente ucraino Zelensky ha fatto un appello per far rientrare Mikael Saakashvili a casa per degli accertamenti. L'ex presidente Georgiano è apparso gravemente debilitato in un collegamento da remoto presso un tribunale di Tbilisi. Le condizioni dell'ex governatore di Odessa sono drasticamente peggiorate da quando ha iniziato uno sciopero della fame contro il suo processo per abuso di potere. Saakashvili è stato arrestato nel 2021 al suo ritorno dall'Ucraina, dove viveva dalla fine del suo secondo mandato presidenziale e sostiene che le accuse contro di lui siano politicamente motivate dalle autorità che cercano di placare Mosca. Anche l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per il suo stato di salute.